E lo che siamo lo spiegherò è la formazione di Toro! Il nostro mister, Feridro, Mihailovic! Il numero 39, Salvatore! Sirego! Il numero 29, Lorenzo! De Silvestri! Il numero 33, Nicola! Il culo! Il numero 24, Emiliano Moretti! Il numero 23, Angiogliano! Tarreca! Il numero 38, Tomas! Brincan! Il numero 22, Schoelle! Abbi! Il numero 23, Sanoderials! Valmente ! Il numero 24, Emiliano Moretti! Il numero 14, Giancarlo! Il numero 21, Di Jericho! Il numero 21, Skyrim? Il numero 12, specialità! a Leandro, Berenghe, e a numero 9 il gallo, Adriano, Beraghi, a disposizione con il numero 1, Salvatore Ciaso, con il numero 32, Milinko Vissavic, con il numero 3, Cristian Molinaro, con il numero 4, Kevin Bonifazi, con il numero 6, Elfri Acqua, con il numero 7, Davide Zampagosta, con il numero 16, Samuel Gustafson, con il numero 19, Manuel Teruca, con il numero 20, Simone Edera, con il numero 27, Vittorio Paricini, con il numero 97, Bianco, e con il numero 99, Umer Salik. Forza, vecchio, cuore, granata, sempre, e solo, su, 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 Umer Salik.